Cinema Ora va al regista britannico Mike Newell, il dragone d'oro alla carriera del Ferrara Film Festival. Giunto quest'anno alla sesta edizione, vediamo con Stefano Masi, 13.30, il riepilogo delle notizie e la seconda parte del nostro giornale. Mike Newell è il fiore all'occhiello della sesta edizione del Ferrara Film Fest. Forse il primo tra i festival cinematografici di una certa dimensione a svolgersi in presenza al 100%. Io vivo a Los Angeles, però ho avuto una visione di portare un pezzo non solo di Hollywood, ma anche del cinema globale nella città in cui sono nato. Dopo sei anni comunque siamo al festival del cinema che cresce più velocemente in Italia. Newell, che in Italia girò gran parte di uno dei suoi film più celebri, Un Incantevole Aprile, conosceva già molte delle nostre città d'arte, ma non Ferrara. Prima d'ora non ero mai stato a Ferrara e non ne sapevo nulla, se non che era stata guidata da una grande famiglia nobile del 400, gli Estensi. Ma non avevo idea delle loro ambizioni, della magnificenza e del potere di questa casata, espressa così precisamente dal castello nel quale ci troviamo e dai bastioni della città. Noi inglesi non conosciamo Ferrara perché è una città relativamente piccola, ma proprio perché piccola è rimasta intatta e sembra ancora la stessa di tanti secoli fa. che sempre costa guarda poco più.